Oggi siamo con il professor Francesco Bandello, rappresentante del Ministero della Salute. Oggi si è parlato di prevenzione solare, è un tema ancora forse un po' troppo poco noto, diciamo un po' forse sottovalutato. Quali sono i consigli per diffondere una protezione solare un po' più consapevole? Le radiazioni solari possono produrre dei problemi attraverso due differenti modalità. Una è una modalità acuta per cui non proteggersi della radiazione ultraviolette può produrre delle conseguenze nell'immediato, dando dei problemi che sono la cheratocongiuntivite attinica, quindi una malattia acuta che peraltro è caratterizzata da una sintomatologia dolorosa molto intensa e poi soprattutto può accadere nel lungo termine, quindi con delle modalità croniche che l'esposizione alla radiazione ultraviolette conduca a dei danni gravi, che sono delle malattie ben definite e tra queste quella più importante è sicuramente la degenerazione maculare legata all'età. Oggi proprio per diffondere al meglio una nuova cultura della protezione solare è stata presentata l'applicazione Sole Amico. Cosa ne pensa di questa iniziativa? L'iniziativa è sicuramente lodevole, è un'idea quasi geniale perché consente di esporre se stessi alle radiazioni con delle modalità protette in base alla quantità di radiazioni presenti, quindi è un'idea sicuramente vincente che peraltro utilizzando la piattaforma che utilizza consente di raggiungere milioni di utenti, quindi garantendo un servizio realmente efficace per moltissime persone. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi.